Sei una a**a! Basta! 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 Orribili violenze, maltrattamenti, vessazioni nei confronti di anziani. Una casa di riposo laghera a Palermo è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Arrestate sei donne accusate a vario titolo di maltrattamenti ai danni di anziani, bancarotta, riciclaggio e autoriciclaggio. Attraverso le telecamere nascoste è stato possibile documentare decine di episodi con violenze fisiche e psicologiche nei confronti degli ospiti della struttura. Calci, spintoni, schiaffi accompagnati da insulti e ingiurie. Lo sai che c'è lì? Cazzo, 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 l'antone confuso. No, io non sono confusa. Tu hai dormito questa notte? Iaah! Gli episodi di violenza avrebbero indotto alcuni ospiti a compiere perfino gesti di autolesionismo. Contestualmente ai provvedimenti di custodia cautelare in carcere, il GIP ha disposto il sequestro preventivo della società che gestisce la casa di riposo, al centro di un complesso giro di fallimenti pilotati per un passivo di circa un milione di euro. Da qui anche l'accusa di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio. Nella struttura inoltre non erano stati attuati i protocolli di contenimento del Covid-19.